E allora risulta che su questo piano, diciamo così, per agire in maniera simile, per agire similmente a Dio, l'essere umano quindi può semplicemente amare per arrivare a un livello simile di gestione. E quindi deve anche andare al di fuori del sistema esterno della gestione. Che cosa significa andare al di fuori del sistema esterno della gestione? E' uno stato di non armonia nel mondo. E' un sistema per così dire esterno della gestione che spesso viene percepito dalle persone come un sistema sottosviluppato. Non armonico, quindi è che richiede l'armonizzazione, richiede la gestione. Quando non abbiamo l'educazione giusta, le conoscenze giuste, allora spesso le persone percepiscono il mondo in colori abbastanza scuri. E allora in questo caso l'essere umano spesso deve andare oltre i confini della gestione esterna e deve percepire come Dio percepisce, deve guardare come Dio guarda, per esempio, a questa gestione esterna. No, voi все знакомы, наверное, conoscete tutti gli esercizi per ogni giorno del mese. E Gregorio Petrovic dice, guardate il mondo, però guardatelo come se tutto si ricreasse dall'inizio, per esempio, in questo mondo. da capo, cioè, per esempio, vediamo il mondo in cui le macchine non distruggono l'umanità, nessuno muore. E questa è un'azione fondamentale d'amore. in questa visione è un'azione di macrosalvezza, quindi, e avviene quando noi guardiamo in maniera tale da trasformare la realtà con la nostra percezione, con il nostro sguardo, guardando quindi attraverso amore. E quando noi facciamo questo confronto dell'amore dell'essere umano con l'azione di Dio? Quando vediamo la loro inseparabilità, quindi vediamo la cosa inversa, cioè, quando l'essere umano, quindi, manifesta l'amore, realizza l'amore, allora riesce a vedere anche l'azione di Dio. Per esempio, vediamo la nascita dei bambini. E' questo è un'azione di Dio. Noi così vediamo la manifestazione dell'amore di Dio. Per esempio, vediamo l'amore delle persone, una per l'altra, per esempio, la loro interazione, ciò che avviene dopo, quindi tutto questo è anche... Però la fonte di tutto questo è l'amore di Dio. Dobbiamo semplicemente sviluppare questa visione, cercare di percepire sempre di più questo amore. Quindi, se noi confrontiamo l'azione di Dio con il nostro amore, noi così riceviamo una struttura inequivocabile. che si manifesta come felicità nel mondo esterno. Quindi risulta che il nostro amore è l'azione di Dio e contemporaneamente quindi anche l'assicurazione della creazione del mondo esterno. E noi studiamo questo bagliore, quindi l'amore di Dio. L'essere umano che è l'amore di Dio e manifesta l'amore di Dio nella realtà esterna. Così, con questa luce d'amore, per così dire, noi arriviamo nella realtà esterna. E vediamo che tutto ciò che è stato creato, tutto ciò che esiste nella realtà esterna, è stato creato sulla base d'amore ed è la manifestazione di questo amore. Noi vediamo le persone, le piante, gli animali, quindi vediamo tutto questo, però lo vediamo come manifestazione d'amore, con questa percezione. con l'amore, quindi noi lo ricreiamo tutto questo. E vediamo che tutto ciò che esiste nel mondo è l'amore di Dio, è la manifestazione dell'amore di Dio. è la manifestazione dell'amore di Dio nella nostra azione e nella relazione a Lui. Noi dobbiamo fare un passo. Dio ama in questa maniera. Lui crea, per esempio, il suolo, la terra sulla quale c'è il suolo, quindi l'erba, la luce solare. Per esempio, noi vogliamo fare un passo su questa terra, ma quindi per avere la terra sotto il piede è necessaria la manifestazione d'amore. quindi la terra è la manifestazione d'amore. Quindi per una persona, per respirare l'aria, è necessario che questa aria sia creata e quindi risulta che anche l'aria è la manifestazione esterna d'amore. Per esempio, io nel chat, Eugenia dice che nel chat è riuscita a leggere una domanda, per esempio, che diceva, ok, se Dio ha creato il mondo perfetto, se ha creato tutto perfettamente, allora perché abbiamo così tanti problemi? Perché c'è questa mancanza, diciamo così, di sviluppo? Quindi in questa domanda ha detto anche che la libertà della scelta non è una risposta completa, come dice quella persona, come dice quella persona che ha fatto la domanda. Però se noi, onestamente, guardiamo la storia del sviluppo del mondo, osservate, e cosa vediamo? Non vedremo sicuramente che in ogni momento dell'esistenza tutti hanno manifestato l'amore, vero? Noi vediamo che non sempre l'umanità non sempre, per esempio, tutti hanno manifestato l'amore in ogni momento della loro esistenza, della loro vita, ma per fortuna questo può essere corretto, e quindi cosa dobbiamo fare per correggerlo? Dobbiamo semplicemente amare, manifestare questo amore. Quindi ecco perché noi facciamo la gestione, quindi possiamo, per esempio, anche lavorare con le situazioni del passato, dello sviluppo in passato che è andato male, e quindi anche lì possiamo manifestare questo amore, riempirlo con amore, e quindi così insegnare anche a quelle persone in quelli eventi del passato ad amare. E quindi è così noi osserviamo l'azione di Dio, l'amore di Dio per l'essere umano, e noi vediamo che anche la creazione del mondo esterno in realtà è la manifestazione d'amore di Dio, è la manifestazione del suo amore per noi e anche per l'intero mondo. quindi ha creato questo intero mondo eterno, perché così, per darlo a noi. Quindi questo è un sistema della distribuzione delle informazioni che è molto chiaro a noi, quindi noi siamo un sistema per diffondere, per distribuire l'amore di Dio in tutti i sistemi esterni della realtà. Quindi tutto ciò che ci circonda è stato creato sulla base d'amore. Ecco perché quando, per esempio, noi, essendo in questo stato d'amore, se guardiamo così la realtà, se guardiamo così una persona o un oggetto, vediamo che questo oggetto o questa persona sono stati creati nell'amore. Oppure, per esempio, anche utilizzando la chiarovigenza più lotante, possiamo vedere, per esempio, che tipo d'amore è stato manifestato da Dio quando lui creava questa persona, questo oggetto, eccetera, in che stato lo creava. E un'altra persona con la nostra percezione impariamo ad individuare questa ottica primordiale, questo amore primordiale. E allora risulta che la sviluppo eterno è ciò che riguarda in particolare, quindi ciascuno di noi, concretamente ognuno di noi, e perché ognuno di noi costruisce questo mondo. E quando guardiamo, per esempio, il bambino, possiamo vedere questa amore nell'anima del bambino. Per esempio, guardando un bambino, noi potremmo vedere questo amore nell'anima del bambino. Per esempio, il bambino sta ascoltando un materiale, una lezione, oppure sta guardando un film, e allo stesso tempo possiamo vedere come, per esempio, l'anima di questo bambino reagisce a questo. E così potremmo vedere l'amore che sta profondamente all'interno dell'anima. Potremmo vedere l'amore nell'anima di qualsiasi persona. E così vedremo che questa profondità dell'amore di Dio per ogni persona viene data a un livello uguale, a un grado equivalente. Quindi noi, per esempio, vediamo quanto amore Dio ci dà, il livello d'amore che ci dà, quindi il volume d'amore, e vediamo che lui dà esattamente lo stesso volume d'amore a tutti, inequivocabilmente a tutti, sempre. Per esempio, noi vediamo che lui ci ha dato, quindi talmente tanto amore, e l'ho dato anche in volume uguale a ciascuno di noi, che tutti siamo in grado di realizzare la vita eterna felice per tutti, in tutti i tempi, e quindi questa è una cosa inequivocabile. E noi iniziamo a guardare in questa maniera, vediamo quindi l'azione equivalente d'amore di Dio per tutti, e vediamo che lui, in una maniera inequivocabile, dà quindi l'amore nella stessa quantità a tutti.